Nasce il Dante D, la giornata dedicata a Dante Alighieri. Sarà il 25 marzo e ce ne parla Gianni Maritati. Una giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, al suo genio sempre così moderno, come dimostrano anche le tante letture del suo capolavoro La Divina Commedia, da Vittorio Gasman a Roberto Benigni. Il Dante D verrà celebrato ogni anno il 25 marzo, data scelta perché, secondo gli studiosi, segna l'inizio del suo viaggio ultraterreno, un'iniziativa fortemente voluta anche in vista del 2021, a 700 anni dalla morte del sommo poeta. Il 2021 sarà un anno straordinario per ricordare i 700 anni della morte di Dante con iniziative in tutto il mondo. Dante è davvero la lingua italiana, la storia italiana, l'orgoglio italiano. Ed è importante che ogni anno, da adesso e per sempre, il 25 marzo, sarà ricordato Dante nelle scuole e in tutte le città italiane. È una vittoria per l'Italia della cultura, sottolinea Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca. L'iniziativa ha preso spunto proprio da una sua intervista di un anno fa al Corriere della Sera. Dante, sottolinea il linguista Luca Serianni, è il simbolo dell'italiano che grazie a lui nasce come lingua letteraria. Il 25 marzo, dunque, grande festa popolare per il presidente della Crusca, Claudio Marazzini. Noi.